Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video del vostro XBreeze ed oggi andiamo a parlare della partita ATP Finals tra Team e Nadal ragazzi Team ha vinto 0-2 vincendo tutti e due i set al tiebreak e raga questa partita si può descrivere in una sola parola qualità, qualità, voi direte perché qualità? perché due set che in totale, cioè la partita è durata due ore e mezza solo per due set vuol dire che veramente c'è tanta tanta qualità è stata una partita combattuta da entrambi i lati ho visto dei dritti, dei dritti che sembravano telecomandati cioè Nadal quando tira ogni volta quel cazzo di dritto va sempre dove dice lui tu con pezzetto la linea, va dall'altra parte del campo, va all'incrocio, la palla ci va sempre ma oggi è stata la rivelazione perché Team, io l'ho visto giocare al suo ultimo torneo non ha brillato e oggi ha fatto grandi cose già contro Zizi Pass comunque si era visto un giocatore che ormai si è ritrovato ora è terzo al mondo e per oggi ragazzi ha fatto un salto di qualità incredibile e il salto di qualità gliel'ha fatto fare il rovescio a una mano ragazzi il rovescio a una mano di Team ogni volta che tirava quel rovescio faceva delle cose incredibili, incredibili, incredibili io non so se voi avete visto la partita, avete visto un pezzo di partita tanto ragazzi ogni pezzetto che vedevate c'erano degli scambi della madonna dei punti giocati alla grandissima e due giocatori grandi noi sappiamo tutti che Nadal non è il miglior giocatore su questa superficie lui è il numero uno su terra o se va bene Team, il problema era Team che va bene ha vinto contro Zizi Pass però non abbiamo visto in quest'ultimo periodo un Team come dovrebbe essere Team e invece ha fatto vedere il giocatore che è anzi Nadal ha giocato molto bene anzi ha fatto pochi errori ma Team ha fatto molti più vincenti dello spagnolo se andiamo a vedere il primo set a parte il primo set nessuna palla break quindi pulito così andando avanti molto leggiadro come dico io andiamo al tie break e il problema è che il tie break lo stava vincendo Nadal Nadal stava a 5-2 cioè da 5-2 andarlo poi a perdere poi a parte il 5-2 Nadal ha avuto anche 2-3 set point nel primo set del tie break non l'ha saputo sfruttare, non l'ha saputo sfruttare e Team vedendo comunque queste aperture da parte dello spagnolo è riuscito a portarsi a casa un primo set veramente veramente combattuto ai massimi livelli partiamo subito con il secondo set dove Nadal ha subito una palla break non la sfrutta andando avanti comunque nel set stanno sempre lì alla pari non è che Nadal si sente la superiorità dello spagnolo su Team no alla fine Nadal riesce a breakare poi Team ma il turno successivo dopo dello spagnolo per confermare il break si fa ribreccare cioè raga poteva essere benissimo chiuso dello spagnolo dopo il break che è riuscito a prendere non riesce a confermarlo e il problema è che dopo vabbè Team riesce a vincere il servizio successivo e quindi stavano 4-5 per l'austriaco il problema è che Nadal il turno successivo per andare sul 5 pari stava a 0-40 ha avuto 3 palle break per vincere 3 palle match point in pratica cioè il problema è che non la sfruttate e poi beh si fa questo tie break che parte subito in vantaggio per Nadal che riesce a breccare subito la prima pallina il primo servizio di Team e poi brecca ancora e alla fine ragazzi riesce a vincere questo tie break breccando altre due volte Nadal ora troviamo qua la TP Finals Team a punteggio pieno c'è sta due vittorie una su Tsitsipas e una su Nadal per vedere le ultime dichiarazioni anzi prima di questo torneo le ultime dichiarazioni ci sono state un po' di storcimenti di naso da parte di quelli più giovani alla fine perché Tsitsipas e Team hanno detto che non si sentivano a loro agio in questo torneo non volevano farlo e si sentono comunque chiusi in questa bolla o questa ampolla ok che si può dire hotel, palestra e campo da tennis perché loro in questi giorni possono fare queste cose alla fine non devono avere altri contatti vabbè sempre sono sottoposti a moltissimi tamponi e tutto quanto vabbè sono sempre controllati e quindi per loro questo è tipo una sorta di centro di clausura ok una cosa così e in più non c'è il pubblico quindi ragazzi la spinta la carica che può dare il pubblico non c'è ok Nadal ribatte ovviamente Nadal grande professionista giocatore che io ammiro dice ma voi dovete ringraziare che in questo periodo così buio voi avete la possibilità noi voi avete la possibilità di giocare a tennis ok quindi io mi aspettavo che sia Team che Tsitsipas non erano al 100% Tsitsipas mi ha convinto infatti secondo me non passerà questo 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 girone possiamo chiamarlo così a 4 dove c'è Team Nadal Tsitsipas e Rubioff secondo me alle semifinali passeranno di questo girone Nadal e Team e invece Rubioff e Tsitsipas andranno a casa quindi dal vostro xvisituto lasciate un like commentate iscrivetevi lascio sotto il link del mio ultimo video dove faccio vedere comunque le best place le migliori azioni dell'ATP di Sofia dove il nostro Yannick Sinner è andato a vincere le migliorazioni comunque della finale quindi ci sono molte azioni di Yannick da non perdere quindi passate dal link in descrizione a tutti grazie a tutti